C'è stata una gestione più burocratica che non politica, quindi alla fine al tavolo regionale dove poi si vanno in giochi al tavolo nazionale, è mancata assolutamente una interlocuzione e quindi poi alla fine il principio dice a me come ho avuto, poi ti dico subito che farà il principio, tu che sei un deputato che hai bisogno di 50 cristiani di sistema ma alla fine i nostri concittadini, le persone che sono senza tutela e che ha visto la sua magia per accendere la ventola sul fuoco a chi vi tutela, ma alla fine i nostri concittadini, le persone che sono senza tutela e che ha visto la sua magia per accendere la ventola sul fuoco a chi vi tutela? E allora io mi sento, a un certo punto mi sento di poter me spendere una valora per tutela vita a chi vi tutela la porta Grazie a tutti.